Il gruppo Estra in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile, innovazione, energia pulita, salute, posti dalle Nazioni Unite è quanto si ricava dalla lettura del bilancio di sostenibilità 2019 presentato da Estra. Ammonta a 938 milioni la ricchezza di Estra distribuita fra soci, istituzioni, comunità, fornitori e clienti, valore aggiunto e valore economico che contribuiscono a far crescere i territori nei quali Estra opera. La sensibilità di Estra alla sostenibilità e quindi alla salute e alla sicurezza dei propri operatori si è manifestata anche durante l'emergenza Covid con 450 dipendenti su 760 che hanno lavorato in smart working. La sostenibilità di Estra risulta anche dalla forte attenzione ai valori ambientali. Nel 2019 più di 12.000 le tonnellate di emissioni evitate di anidride carbonica per la produzione di energia da fonte rinnovate.